Calcio di punizione già battuto, parte il cross, palla sul palo lontano, Burdisso! Vicky Burdisso! È suo il primo gol stagionale di Nicolas Burdisso al 44esimo Finalmente un pallone alzato, un bel cross e c'è lo stacco di testa perentorio di Nicolas Burdisso Il cross di Balotelli preciso sul palo 2 dove salta molto bene E quindi diciamo